mi vedete bene ci vediamo bene sì abbiamo iniziato questa sessione per alex come sempre conto da 5 a 1 e ti connetti in ferrico a lui 5 4 3 2 1 di miss lo vedi ho visto due scene mentre contavamo parallele mi ha mostrato subito una ho visto lui in una vita parallela in mesopotamia che ha un c'è il corpo nudo soltanto una fascia per coprirsi genitali diciamo così e poi ho visto contemporaneamente un'altra scena ed è sempre una vita parallela dove lui è un insegnante l'ho visto su una cattedra e insegna dei delle persone dei giovani scuola mista sì ok mesopotamia e insegnante anno 4.000 avanti cristo mesopotamia 1890 l'insegnante ok alex ti dà la sua autorizzazione si gira l'uomo della mesopotamia che è lo vedo più sofferente rispetto alla vita dell'insegnante e mi dà mi dice sì mentre tira su un masso un sasso cosa serve per sasso lui in questa vita porta questi sassi da una parte all'altra per fare delle costruzioni siamo in asia quali costruzioni come se costruisse dei ripari delle case solo che ma sassi sono grossi non lo fa per sé per il proprio popolo o è solo schiavo che civiltà c'è nel 4000 avanti cristo e mesopotamia in questa linea temporale che vedi e sumeri quante sono le vite di alex 4525 in quante vite se ci sono ha vissuto con il suo attuale fratello gemello 2000 più di 2000 2000 la metà diciamo in qualità di di tutto sorella fratello ovante moglie marito padre madre o c'è una costante quello che vedo è no diverse diverse situazioni come si dimostra diverse vite che è un'anima affine a lui io vedo come se fosse una parte di lui un'anima che come se definiamo gemella una parte di lui ma hanno la stessa parte subliminale dico quello che ho visto come se mentre me lo domandavi ho visto un'anima c'è una parte subliminale divisa vedo questa scena qua come se fosse una parte della sua parte subliminale divisa in due individui di parte subliminale quindi l'anima di metà di mela sì esatto ma è la fiamma qui se la sua parte vedo che era la sua anima gemella quella che noi intendiamo anima gemella la parte la sua parte ok c'è un'esistenza in cui sono stati coppia molte moglie molte esistenze diverse si beh interessante perché sono i tiro zigoti c'è una causa esoterica si tende tendono a far allontanare le le due parti chiamiamole così della mela cioè dell'anni dell'anima tendono a farle allontanare perché nel momento in cui le due parti si incontrano e come se diventano più forti più potenti vedo questa scena è come se l'avesse qualcuno avesse insomma comandato deciso tra virgolette di dividere o tutte le parti subliminali cioè come se tutti abbiamo abbiamo una parte da un'altra parte che che non è con noi quindi eterodigoti in questa vita è semplicemente un processo di continuare a cercare di dividerli ma comunque difficile perché poi sono nati i gemelli in questa vita però essendo tra virgolette diversi è come un cercare di creare una divisione di creare un individuo diverso dall'altro quindi non riguarda e questa cosa su 4.500 vite 2000 e l'anima state insieme quindi è un grandissimo successo c'è gente che non si incontra mai in nessuna vita ma si sfiora o comunque in ogni caso non si incontrano mai che consapevolezza della parte subliminale a alex e quindi anche suo fratello 80 per cento 85 e facerlo anche se identica come se fosse connessa alla stessa nel caso di alex psp sono il rapporto di che tipo 53 la parte subliminale ok beh in questo caso ci può essere una differenza il fratello 55 non facciamo ovviamente una sessione a due oggi perché non abbiamo nessun permesso e non è non è il caso ma ogni tanto ti chiederò qualcosa per capire la situazione di alex ok anno ai chiede vedo scusa se ti interrompo nulla mentre mi dicevi questa cosa io ho visto il fratello però che sia in eterico si sta come se l'anima c'è la ps di suo fratello che comunque qualche maniera è legata ovviamente come dicevamo ad alex si è si gira vedo una raga un ragazzo scusa che ha essi accorto come se fosse stato involontariamente di amato ma ben chiaramente chi vuole appartenere a partecipare in questa sessione libero di farlo non è una porta chiuse una porta aperte quindi lo può assolutamente fare anzi se partecipa e si comporta in un determinato modo non so ride piange se ne va si avvicina dicelo chiaramente e messa seduta su una poltrona adesso ok qual è il patto che hanno fatto loro due in questa incarnazione una scena particolare è come se sono andata proprio all'inizio di tutto di quando la sua parte subliminale sia la sua parte energetica si è staccata da da qualcosa da una dalla sorgente ma si è staccata a un certo punto è come se avesse incontrato delle interferenze che l'hanno divisa in realtà non è il patto cioè non è proprio un patto è strano è come se loro sono molto forti come se la stessa parte subliminale che si rincontra sempre si cerca e si ritrova si cerca si ritrova si cerca si ritrova però la vedo diversa dalle dalle altre volte ce la vedo proprio come una un'azione di divisione c'è proprio come se fosse stata ingannata diciamo questa anima a essere divisa a fare da dire sia le due cose diverse ma alla fine è impossibile separare lo stesso la stessa energia la stessa parte subliminale in fondo e perché venire dopo esce questa energia interferenze che sta madrid che non hanno ancora capito che questo è una fregatura ma in 2000 occasioni hanno avuto la possibilità a vetrano in questa ovviamente perché sono fratelli di riunirsi perché non l'hanno fatto per esempio quando è stata la situazione è stata una coppia marito moglie compagno compagna figli figlio madre figlio padre sono sempre stati familiari cioè nella stessa componente familiare in qualsiasi caso si vicini ma non comprendendo che alla fine sono la stessa cosa si ritrovano io vedo questo si cercano come c'è stato questo inganno dopodiché una volta scesi comunque la loro attrazione proprio come due c'è una calamita la calamita con con un metallo però perché per loro esiste questa situazione e non per la maggior parte qual è la ragione perché la calamita loro e gli altri no è come se nelle linee nelle vite parallele loro si stiano stiano facendo dei percorsi compresso questo di alex che li sta rendendo consapevoli a livello eterico non nella nella vita di un c'è fisico di oggi ma a livello eterico si stanno si parlano si prendono consapevolezza quindi si si ricordano quindi mano a mano è come se siccome accade tutto in maniera simultanea alla fine le 2000 vite magari se le vedo dall'alto sono 2000 però magari in questa linea temporale sono 150 non so se mi sono spiegato è come se ogni volta che loro si si parlano si vivono fanno l'esperienza siccome accade tutto in maniera simultanea cambia anche il numero di vite quindi in questo momento non abbiamo viste 2000 magari tra un po di noi vediamo in un altro momento e cambia perché si parlano e si prendono consapevolezza di questo quindi aumenta sempre di più il loro avvicinamento questo chiede la ps di alex e del fratello quindi alla stessa ps come si esce da matrix loro mi dicono come se qui è un è un livello del gioco e passandolo bisogna passarlo per forza secondo loro è il modo per uscire da da matrix andare non tornare qua con quello che mi dicono arrivare a comprendere tutto questo che loro stanno comprendendo oggi nelle vite parallele che cambierà tutte le altre vite che loro stanno vivendo dicono prenderanno consapevolezza e quindi faranno scelte diverse prima di scendere non scenderanno non scenderanno loro dicono che dicono che si possono creare altri mondi non serve scendere più come se dicono che è uno step questo passaggio cioè matrix dove siamo noi adesso è come se per loro sia necessario per fare la loro esperienza diventare consapevolezza diventare consapevoli e non farsi più ingannare però mi dicono che era necessario per loro questo è quello che dicono loro non sono ma lo sanno quindi che questo è il modo per uscire loro dicono questo perché pensano che questo sia il modo per uscire cioè fare l'esperienza e poi arrivare a un livello di consapevolezza totale e di una volta c'è lasciato questa la nostra matrix riunirsi e fare un altro tipo di esperienza creandosi un mondo a parte cioè loro sono consapevole di essere dei delle creatrici comunque va bene alex è interferito ci sono io vedo 7 dl alcuni anche non c'è vedo allora ne vedo suoi che entrano escono 5 e poi ne vedo altri due che probabilmente alla persona che col quale vive anche la che girano intorno quindi da sei anni sono i due extra sì ok curiosità i cinque fissi di alex li condivide con il fratello sono gli stessi gli stessi possibile sono dentro il fratello e dentro alex a livello età di così spostano in un anno secondo da una parte all'altra è come se c'è per noi è difficile vedo questa scena è strano anche per me però è come se al alex per arrivare dal fratello deve prendere la macchina ci mette un quarto d'ora loro in una dimensione non visibile chiamiamola così per dargli una definizione possono passare da una parte all'altra c'è spazio e tempo è usano dei principi quantità assolutamente sì e cioè io vedo proprio con questi qui che passano da un corpo all'altro e passano a fare informazioni ma lo fanno con chiunque o lo fanno solo quando la parte subliminale la stessa quindi in questo caso noi ti chiamo è la stessa parte subliminale in questo caso non lo potrebbero di praticamente la questione questa la mela la mela è stata tagliata metà poi una mela una mezza mela in australia una mezza mela in italia facciamo finta che il fratello sia in australia anche se non è vero al simpatra stessa mela quindi per il principio se non ricordo male questo lentamente no quindi della quantissimo per il quale le due particelle collegate quindi le due mezze mele e come sono solo insieme non si risuona la parabile dello spazio questo principio lo sport sfruttare anche l'essere di luce assolutamente sia anche in maniera più facile rispetto a noi nel senso per noi è un pensiero che si studiato comunque estratto per noi è difficile in questo linea temporale nella materia comprendere questa cosa ma vista da dal punto di vista in cui lo sto vedendo io è istantaneo cioè come c'è questo stesso non è istantaneo ok questo quando domanda però se alex metti i presupposti perché affinché il dl numero uno entri nell'anno 1987 non so in lui lo acquisisce anche il fratello di riflesso quindi diciamo è colpa di alex e viceversa sì nel senso in questo caso sì parliamo di questo caso perché stiamo analizzando questo non vi permetto di dire in generale però poi a seconda della c'è della vita del fratello di quello delle decisioni che prendono qui oggi possono decidere di accettare o non chiaramente però in questo caso in questo momento sì ok e i due esterni dipendono dalla fidanzata di alex quindi a casa li vedo che girano a casa no altre entità attente frenze un drago che sputa a fuoco verde grande alto con le ali vedo due felini sopra il drago indietro il drago se c'è seduti accanto al drago la scena la vedo così saliamo mi vedo io ma noi vedo dei se i biri di diri si chiamano così sì ma hanno a che fare con i bio il mitico x pianeta x se mi è arrivato subito questo nome sono hanno la pelle un po scura con dei capelli lunghi neri sopra sopra la simpatica aquila dino che mentre la guarda lo guardavo si è andato a mettere sul braccio sinistro di zeus seduto su una poltrona come sempre nel computer it poi sopra il computer di essi ok quali effetti a nella vita di alex i 5 dl suoi io vedo che sussurrano qualcosa alle sue nelle orecchie un esempio non hai bisogno di nessuno non hai bisogno di nessuno gli altri non capiscono niente tu sei più intelligente se superiore tendono a allontanarlo dalle persone nonostante è contornato cioè comunque vive fa una che dovuta al suo lavoro a delle relazioni deve relazionarsi con le persone ma tendono a allontanarlo tendono a a farlo sentire a livello emozionale più importante più però in questo andolo esatto questo fa sì esatto lo volevo dire che lo isolano da dalle relazioni e da con interagire comunque con le altre anime alla fine no il suo lavoro un misto tra capacità che lui ha l'alto livello è uno dei 23 più bravi dei suoi colleghi e relazioni sociali con relazioni interpersonali con i colleghi e su quello è molto difficilitario ed infatti quando c'è una promozione un riconoscimento non viene dato a lui bene dei dl quindi e i due esterni i due della compagna che fanno mettono tizzania tra di loro li allontanano in realtà loro hanno deciso di fare questa vita è come se loro due vedo la compalla ps della compagna che comunque è la sua e quella di alex che hanno preso la decisione di fare un percorso insieme ma che interferiscono comunque io vedo anche un angelo cioè oltre le dl che li vedo come forme di energia senza senza corpo vedo proprio un angelo dietro la la compagna la donna ok ci sono impianti che vedo qualcosa a livello del terzo occhio ma della naso a livello del naso una pallina qui a che serve stanno vedo controllo di suoi odori come se lo bloccano a livello olfattivo olfattivo perché a livello olfattivo comunque si percepiscono anche le attrazioni vedo questa cosa sta la vedo con la dico come la vedo proprio a livello di come se lui percepisse può percepire gli odori della persona e l'odore della persona lo può attrarre verso altre situazioni e quindi come se lo bloccano molto particolare come se avesse un blocco mentre tu parli sabrina alex fa un sacco di volte sì con la testa i fonti anche questo olfattivo poi fuori dalla registrazione ci spiegherà perché ok poi altri il stomaco un blocco a livello impianto una piastra qui vedo anche un fatto a piastra proprio di ferro e poi genitali su all'altezza dei genitali ok la gerarchia delle interferenze esclusi edl e gli impianti sono domanda gli stessi nel fratello ora gli edl sì perché hanno questo vedo molto legame con l'anima edl ce lo vedo proprio che interferisce a livello anima quindi emozionale perché l'anima emozione è quella che comunque è più esprime la parte emozionale quindi le dl sì altri altri vedo nel fratello anche altri tipi di interferenze vedo più rettili più più come dire no guerriero il fratello più meccanico lo vedo ecco quindi interferito per attuale meno spirituale esatto quindi ci sono comunque anche altre interferenze però gli edl sono gli stessi quindi il rettile è un po più freddo militare scolastico scolastico più non dico robotico automatico ma matematico invece lui lo vedo più spirituale emotivo quindi questa corrispondenza perfetta solo l'essere di luce perché si connette e completamente alla parte subliminale che è esattamente la stessa si può scappare da questo principio cioè l'essere di luce acquisito dal fratello in automatico finisce in alex e viceversa si può eludere questa regola allora io vedo che la polizia che stiamo facendo oggi essendo che comunque parliamo di una parte subliminale divisa a metà influirà positivamente quindi a in qualche maniera già il fratello già lì che ci sta guardando e sta imparando sta prendendo consapevolezza venne già questo ma la sarà di risuonerà anche a lui quindi arriverà al momento anche a lui poi chiaramente si può scappare perché perché le due ps sono all'interno di due corpi fisici diversi con menti diverse emozionali diversi perché hanno fatto comunque un percorso di vita fisica materiale conoscendo persone diverse quindi è una scelta nel senso non è detto che se il fratello arriva un'interferenza quindi alex la su no no ma è lc quindi a livello di alex avesse una forte consapevolezza e sente che sta entrando il sesto e di all'interno nel fratello non è bloccato assolutamente sì o non entra cioè può impedire l'entrata del delle dl nel fratello quindi se stesso assolutamente sì la consapevolezza potenza come dire no quindi tutto quello che lui sta facendo oggi è quello che farà prossimamente quindi prendere consapevolezza continuare il suo percorso studiare impedirà se lo vorrà chiaramente che se il fratello attira ulteriori dl rimangono sul fratello quindi sì ma anzi io vedo il contrario addirittura cioè vedo che la consapevolezza di alex può se la parte subliminale la parte di parte subliminale del fratello la vuole prendere può influire positivamente quindi si va bene quindi causa su te reca delle relazioni interpersonali conflittuali difficili praticamente l'abbiamo visto la sua anima gemella già l'ha trovata la ragione per cui è molto legato invece all'attuale partner a una causa esoterica di amicizia di affetto l'ho visto prima era sua figlia vedo in un castello li vedo in un castello era scusa da una figlia acquisita l'ho visto prima mentre abbiamo parlato di lei ho visto questa scena poi l'ho lasciata all in stand by lui alex lo vedo in un castello medievale e praticamente c'è questa bambina che rimane viene abbandonata rimane è figlia di servi rimane sola i genitori di questa bambina che sarebbe la compagna di oggi questa bambina rimane sola e quindi lui che è anche lui un si occupava del giardinaggio vedo che taglia il giardino vedo che sistema comunque la parte del giardino di questo castello è come se adotta questa bimba che rimane da sola le fa tenerezza e la tiene con sé in questo castello quindi in questa vita loro lei è sua figlia come se lui si occupa sì di questa bambina vedo questo blocco lavorativo l'abbiamo visto un relazione non entusiasmante con i genitori causa esoterica c'è un distacco in meno con entrambi è come se allora è come se lui la sua anima si rendesse conto che genitori di questa vita sono a livello fisico creano il suo corpo fisico che ha di passaggio perché il corpo un involucro no quindi è come se la sua parte subliminale e la sua parte derica perché la sto vedendo adesso si vedo la vedo insieme dicono come se sì ok sono i miei genitori di questa vita c'è affetto c'è però la vedessero come un passaggio cioè comunque è consapevole di questo vedo questa cosa qui quindi è un distacco non non c'è una motivazione di qualche evento particolare non mi è arrivata subito questa questo concetto qua sono a questo giro gli attori che fanno esatto quindi sì l'affetto c'è chiaramente l'hanno cresciuto io vedo anche una vita sinceramente serena ecco non vedo grandi traumi che però comunque riconoscenti per carità però comunque come se lui dice ok grazie è bello però siamo di passaggio cioè non sia dei miei genitori qui la famiglia è una cosa momentanea di questa vita di questo piano no perché poi alla fine magari il padre è stato il figlio la compagna o in altre situazioni no causa sotica di alcune sincronicità di date tra le persone che lo circondano quindi il marito della con l'ex marito dalla compagna vedo scusa mi sentiamo interrotto mentre me lo dicevi ho visto ci sono gli elohim cui interferiscono dall'esterno però è come se allora i numeri quando li vede i numeri primi insomma numeri doppi io vedo sempre un'apertura di un portale spazio temporale diciamo se rendo l'idea quindi è come se quella quell'asso di tempo che noi vediamo ci fosse una sincronicità per il quale possano passare tra una parte all'ata una dimensione nostra la loro questo già l'avevo l'avevamo visto no però in questo particolare caso è come se cercano di arrivare più facilmente a lui lui ha un una parte emozionale in realtà molto un po bloccata ma io la vedo molto attiva cioè sensibile molto lavorano bene sulla parte emozionale e quindi è come essi sì perché io vedo vedo questa correlazione con loro vedo gli angeli angeli che io percepisco come elohim quando vedo un angelo quindi ho visto cioè mentre me lo stavi dicendo è come se fosse una sincronicità per arrivare a lui però da quale lo scopo anche dei numeri doppi che vede numeri 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 che hanno significati che sono doppi che corrispondono messaggi nascita messaggi 20 uguali messaggi di distinto ovviamente non è così c'è dio messaggi di dio mi avvenuto in questo messaggio di loro di elohim che non è ovviamente entità quindi farlo sentire un canale di messaggi importanti farlo sentire un eletto farlo sentire sì ci sia particolare in questo caso particolare oltre a vedere sempre questa cosa della del portale che si apre quindi una sincronicità a livello proprio spazio temporale con noi nel suo caso lo avete proprio come un ti sto mandando un messaggio ma in realtà sto cercando di entrare beh ci sono tante persone che vanno pazzi da queste cose che ci stanno ci vanno finire dentro ci sono dei libri che dicono quale messaggio corrisponde in realtà al numero e sono mille numeri quindi mille messaggi a ben vedere i messaggi sono tutti uguali si ci stanno ascoltando ci stiamo mandando un bel energia sono gli angeli come se tu poi alla fine gli dici sì ok accetto interferenza l'inganno per arrivare a farti dire sì ti do l'autorizzazione ne parlavamo prima no far sentire qualcuno che ha un inizio di spiritualità di percorso che che avviene l'eletto il particolare figo guarisce se lo che vede è un modo per forse a chi apparlo ancora di più assolutamente d'accordo ok causa esoterica dell'impulsività se c'è emozionale dove non si seguita nel corpo emozionale all'altezza del cuore cioè qui dal cuore allo stomaco anzi più stomaco direi rabbia causato per cari dove sulla parte del fegato fegato stomaco sempre causa esoterica e lui si sente fermo lui potrebbe causa anche a tutto di tutto questo che questo quadretto che abbiamo diciamo detto ci sono due motivazioni una è anche legame con il fratello però c'è qualcuna parte di parte subliminale sua perché vuoi o non vuoi a livello eterico la percezione c'è la nel senso è come se vedo che se il fratello fa qualcosa che non basi comunque lo percepisce non dico che influisce nelle azioni della sua vita però lo sente e comunque anche questa cosa io quello che vedo è come se con quello lo percepisce fosse comunque non fastidito però si rendesse conto che c'è un legame che da una parte può essere meraviglioso dall'altra poco c'è sempre l'altra della medaglia e poi il fatto di rabbia il fatto di sentirsi comunque come dicevamo prima in zona di comfort e non riuscire a fare il passo se non riuscire a fare comunque alzarsi dalla sedia diciamo così in maniera ovviamente retorica comunque sentirsi fermo ma lui a tante cioè lui ha una mente anche molto attiva molto io vedo che riesce a fare un miliardo di cose insieme vedo che riesce a passare da una cosa all'altra quasi lo sto vedendo dalle dall'alto in maniera anche anormale nel senso positivo ok quindi straordinario esatto potrebbe veramente fare avrei potrebbe fare quattro cose quattro lavori insieme per per esempio dico creativi però non riesce a anche anche causa dl però anche cause interferenze a dire ok faccio questo ma posso fare anche quello invece le interferenze e la rabbia che di tutto questo dicono no puoi fare solo questo se fai questo non puoi fare anche quello ma non è non è vero perché lui può fare anche cinque cose insieme nessuno glielo vieta cosa quello che bello causa esoterica dell'insoddisfazione è questo ok e non direbbero traverto e della depressione del passato diciamo ora io qui nella depressione del passato vedo come me l'ha detto ho visto il falco che rodino direttamente come fatto breccia come fatto fare breccia in adesso è perché nel momento in cui a livello emozionale noi abbassiamo le difese in questo caso alex per una serie di eventi esterni ma non abbiamo la ancora la consapevolezza la costruzione interiore di comprendere che non è ciò che accade intorno l'importante ma come lo affrontiamo che cambia veramente la situazione quindi in quel momento quando ancora non aveva la consapevolezza di adesso e stava in cerca comunque io vedo quel periodo cade giù nel momento in cui cade giù a livello emozionale è tutto cioè è tutto più facile ci danno la ci danno il resto come di come si dice no citano ci vanno giù ancora di più battono sul ferro caldo come posso spiegare adolescenza difficile ha dovuto ma anche se quello che vedo è dovuto anche questa dualità di anima nel senso è come se lui nell'arco del tempo di questo di questa linea temporale si sia reso più già avesse compreso un pochino questa cosa anche se non so se se ne reso conto a livello mentale qui però la sua parte le loro parti subliminali come dicevamo prima si parlano e quando si parlano cade tutto simultaneamente quindi si parlano qui si parlano nelle altre vite si rendessero conto quindi quel momento comunque lui era confuso perché ovviamente dimentichiamo sempre tutto purtroppo c'è questa cosa qui quindi noi veniamo qua che non ricordiamo nulla e abbiamo sempre bisogno di quell'asso di tempo per riequilibrarci e per arrivare a questa consapevolezza che non sempre accadono in tutte le vite però nel suo caso specifico è come se fosse quello il motivo il discorso della sua dualità con con l'anima con la insomma la sua parte subliminale e ad oggi si sia dato si sia tranquillizzato su questo fronte in quanto ha compreso come se la sua parte a livello eterico livello eterico proprio lui abbia visto già tutto quello che noi stiamo dicendo come sempre vedo che come se tutto questo già staccato va bene pnl prima la rivista prima che la dicesse si programmazione neurolinguistica mi è arrivata mentre lo diceva c'è qualche legame con lui era un filosofo le insegnava filosofia storia della filosofia con la vita del che ci ha fatto una delle due direi noi è sempre stato alla ricerca che parese francia del 1890 dove parigi rione no parigi parigino vedo una ricerca della mente attiva la mente la pnl mente cioè in realtà lui ricerca comunque di avendo questa mente molto capace diciamo molto aperta con delle capacità anche veramente di io vedo velocità questa cosa vedo lui adesso sto vedendo lui che sta lavorando che sta con delle pratiche con delle cose innalzo a livello eterico vedo come se la mente già cioè lui lamenta già sopra di lui già fatto quello che poi fisicamente lui fa non lo so che c'è questa è più veloce della media molto liberosi della media questo perché lui o perché a questo forte connessione con la sua metà mela allora io vedo sia che è perché è la sua parola sua ps che ha così comunque sia però maggiormente legato al corpo mentale e fisico di lui di alex proprio c'è una sua particolarità quindi la pnl è comunque una ricerca di me di lo aiuta diciamo in questa sua a controllare questa sua capacità vedo anche l'interazione adesso ho visto questa scena un'interazione con le persone queste sue capacità le le permettono di quasi leggere nella mente quello che in quel momento se io vedo questa scena lui guarda negli occhi una persona è come se quasi perché lui è un venditore no diciamo una cosa e lui sta già per una volta a casa risultato sì sì perché come se legge quello che la persona vuole ok questo vedo quindi è proprio mentale però mentalmente ok cloni alexa cloni rivedo un attivo e due no il fratello col fratello osserviamo è ovviamente sacroni fratello due diversi diversi sì e quelli di alex assomigliano alex quelli del fratello assomigliano al fratello eterozigote alcuni sì alcuni no alcuni sono proprio similari altri sono ibridati quindi non proprio separati se quali fanno delle cose quelli del fratello nel caso del clone sì perché c'è il dna fisico di mezzo ok ci va nel clone di alex la parte subliminale di alex o la parte teorica ci va ci faccio ci va la parte subliminale ok stavo vedendo scusa mi dicevo sì perché stavo vedendo che anche la allora la parte subliminale di alex a volte va nel clone del fratello e viceversa cioè i croni sono diversi ma si mischiano le parti subliminale si fanno più avventure più esperienza si crea casino abduction stessa domanda qua è più interessante quante ne alex se ne ha e se le condivide col fratello fratello ce n'ha di più di lui che farà nemmeno consapevole più manovrato dai rettili il fratello quindi più soggetto un soggetto più semplice io su di alex in questo momento un al mese per dare un numero perché in questo momento non ok quando questa abduction di presidente una volta al mese alex subisce l'abduction 1 prima domanda è fisica no e perica l'eserciva se la psc ma quindi anche quella del fratello va a farsi l'abduction di alex viceversa a volte c'è uno scambio sempre sì c'è uno scambio c'è uno scambio mentre me lo chiedevi mi dicevi allora a volte anche il fratello ho visto questa scena ps di abduction eterica di alex e la parte di del fratello che la parte una parte subliminale una parte un pezzo di parte subliminale viene richiamata questa è la scena che vedo venisse comunque richiamata sì sì perché poi alla fine l'intento dell'abduction se fisica la vedo più di dna di prendere dna qualcosa di fisico no per creare i cloni o altri esperimenti in eterico io vedo proprio un cercare di prendere parti pezzi di sparti subliminali quindi è come se la parte subliminale del fratello di alex si sentisse chiamato in causa cioè come si dice ma quella parte mia perché faccio cioè ok questo è quello la scena che ho visto ok va bene beh una situazione nuova finalmente speriamo imparando tante belle cose se particolare molto veramente alle tese cosa vuole fare alex vuole rendersi libero vuole pulirsi come sentirsi più leggerlo dice i patti e contratti presenti nel cluster di alex sono diverse da quelli del fratello ma solamente sì perché in realtà comunque fanno si incarnano in persone diverse e quindi si ne creano diversi si mettono d'accordo non so questa vita saremo fratelli e quindi c'è un patto c'è un fatto che è come alessio è uno in quello del fratello che hanno lo stesso intento ma e sa bene il fratello può guardare può fare quello che gli pare libero di rimanere quindi non facciamo pagare il biglietto a nessuno chi vuole venire a vedere è libero quindi vediamo cosa fa alex ti saluta si voleva quando hai detto il fratello ha detto io sono qua io sto guardando è come se lui dice alex sono parte di me quindi normale che sto qua se oltre a guardare vuole fare la stessa cosa che fa alex visto che sono così collegati te lo volevo dire cioè non sta chiedendo proprio sta dicendolo dicendo in maniera molto umile bella questa cosa come dire io non voglio interferire nella nel lavoro che sta facendo alex però io sto qui e imito coscientemente coscientemente sì sì non vedo proprio lui che mi ha alzato la mano per salutarmi come per dire fai sapere che io sono qui lo voglio fare anche io si sono anch'io perché è legata alla sap alla parte sublimina è lui c'è una parte di lui no mi credo cosa fa alex apri un armadio di legno mi mostro un armato di legno vedo alex nella come è oggi apri questo armato di legno mi mostra tutti questi fascicoli mi mostro così tutti i fascicoli e li vuole buttare mio chissà che non le servono più prende l'armadio e lo mette lo lancio in un buco definitivo che si apre lui ha fatto anche il fratello in lontananza vedo il fratello che fa che scena è come se fosse uno specchio come dall'altra parte ma anche i movimenti sì è questo è perché sta molto bella e insomma particolare ok nuova da questa pulizia del cluster dei contratti non c'è più niente no sia un caso che nell'altro fatto come la situazione edl edl ci sono ancora interferenze di alex drago felini e umanoidi no qui c'è bisogno di andare al cluster che qui ha eliminato vedo proprio il livello più di vite i patti di come sono andate le vite nel suo caso per fare una pulizia più profonda dobbiamo andare all'avatar più su andiamo all'avatar vediamo se lo fa anche il fratello e l'avatar sono diversi se sono l'avatar diversi allora sono saliti tutti e due e fa darlo sempre in lontananza perché mi mi fa vedere come per rispetto perché io cioè io volevo vederlo anche più da vicino no volevo metterli invece lui dice no io rispetto sono qua e vedo che salgono una scala dei scalini non una scala scusa dei scalini e arrivano a una porta tutte e due aprono e dietro queste due porte ci sono i loro due avatar e entrambi gli avatar sono tutti e due disattivi però sono a gambe scusa abbracciaconserte con la testa sulla sulla scrivania sono praticamente inattive quindi il contorno uguale la scalinata la città è identico come se fosse fantastica questa cosa è come se fosse detto di ma la parte di anima sua quindi ma specchiati simmetrici o proprio uguali 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 però quello che è destra destra quello che sinistra sinistra non specchiati destra diventa sinistra no alla prima al cluster erano specchiato adesso avevo uno specchio riflesso quando siamo saliti all'avatar si sono messi laterali parallele scusami un accanto all'altro e davanti a me stanno salendo hanno fatto le scale tutte e due quindi quello che accade da una parte lo fa esattamente l'altro il fratello cosa fanno non mi ha chiesto perché avranno tutte e due questo buco definitivo alex di qua a destra e il fratello a sinistra e prendono il avatar prendono la sedia la scrivania al computer insieme ognuno nel suo buco puliscono tutto e nel mentre qui vedo la pulizia totale e dl falconiformi rettili di uno e dell'altro annibbi siri altre interferenze nibbi gli impianti di alex dati quali del fratello sono andati oggi è la due per uno bellissima questa cosa proprio impossibile che cioè è naturale come posso dire che se lo fa alex lo faccia anche lui ok molto interessante chiudiamo questo portale non c'è più niente da dire a livello di interferenze vite di alex 4525 che diminuisce quelle col fratello sono uguali sì quelle al fratello sono uguali rimangono vedo che cambiano 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 gli eventi quindi cambiando gli eventi alcune vite non servono più lo posso dire che hanno fatto già l'esperienza che avrebbe che non serve più l'esperienza cambiando qui cambia anche nelle vite precedenti parallele e quindi automaticamente se fai un'esperienza qui e prendi consapevolezza qui oggi ora alcune vite è come se non servono questo quello che è te frequenza di alex 8 miliardi del fratello uguale consapevolezza della ps di alex e del fratello 180 per cento in entrambi casi rapporto psp e in alex li vedo un perfetto equilibrio quando anche il fratello messaggio psp e insieme ad alex dicono tu sai di essere speciale però si più ricordati che le persone le anime che che incontri nella vita non sai che battaglia stanno combattendo quindi si più sensibile perché anche loro stanno combattendo la loro battaglia tutte le persone che si incontrano combattono le loro battaglie perciò magari ti arricchirà anche avere un po più di comprensione e rispetto sì un po più aperto di come se la stanno invitando a essere più in questo caso sì ok e la ps di alex vuole lasciare un messaggio entrambi e sotto la stessa la ps di alex anche al fratello dici ma la ps di alex è come se mi sta dicendo io mentre alex stiamo già parlando siamo sono io un messaggio che valga per entrambi per esempio come tornare alla sorgente dobbiamo prenderci per mano con tornare alla sorgente bello metaforico bene come non bisogna tornare più questo gioco che come dove vengono selezionate e recchiato chiaro e ovvio come dobbiamo dobbiamo riuscire a ricordare quando lasciamo il corpo di tutto quello che abbiamo imparato come l'interferenza che lei ha creato hanno delle tecnologie pazzesche che cancellano la memoria come eluderla ma l'anima non dimentica noi ricordiamo quando andiamo di là bene pare che ne dimentichi perché si continuerà a incarnare come come si fa a uscire dalla matrix se lo vuole dire una ps che 2000 vite che si rincontra con la sua metà della mela se lo vuole dire la dobbiamo prendere per il bavero scuoterla fino a che non ce lo dice sento io in eterico e la schiaffeggio per un'ora se lo vuole dire perché non ce lo dice non ci venga fuori a dire che dobbiamo conquistare l'informazione siamo qua secoli e secoli ad aspettare che arrivi una soluzione quando arriva la soluzione quando si decide quando si sveglia come si esce andiamo a staccare il computer dobbiamo staccare il computer quello che crea la matrix quello che mancia le informazioni e artificiali compriamo arrivare da lì come se arriva lì la creatura e ammo di essi dobbiamo unirci quando andiamo di là dobbiamo prenderci per mano il più possibile tutti quelli che hanno fatto un percorso più consapevole perché insieme siamo più forti dobbiamo arrivare lì possiamo arrivarci soltanto se ci uniamo ma ci dividono qui rincarnando di ci dividiamo dobbiamo riuscire a stare di là e stando di là riuscire a connetterci tra di noi dandoci la mano unendoci insieme arriverà il giorno che potremmo riuscire ad arrivare a distruggere il computer quando dobbiamo aspettare più parti subliminali alcune parti subliminali sono gialli che ci aspettano hanno 5 5 cosa ci tra cinque anni 5 anni 500 anni che culo facciamo questo anno mi cambia questo può cambiare come minimo siamo tutti robotici tra 500 anni le anime che non scendono più non scenderanno più scenderanno sempre meno anime perché quello che accadrà qui non servirà più l'animo ci saranno forse piccole parti ma le anime saranno veramente poche sulla terra quando questo accadrà e quindi saremo di più di là che di qua e avremo forse più possibilità perché non stiamo capendo loro non stanno capendo io ho capito le anime stanno di là si stanno aspettando già per mano noi finiremo loro ma alcune non stanno capendo e rallentano questo processo che potrebbe essere accelerato come la consapevolezza bisogna fare un lavoro più potente bisogna che le anime prendono consapevolezza prima di più la sfera di informazione che abbiamo messo di ritorno alla terra ferro ci sono persone che nella notte hanno avuto dei sogni ok aumentiamo di tre zeri la frequenza di quella sfera per le cose sono tanto fatto va bene come vedi alex bene questo momento ben soddisfatto il fratello uguale la casa di alex lui si è creato una questo momento una protezione che data da tutta la consapevolezza da tutto il lavoro che ha fatto in questo questa sessione ma le interferenze della compagna ci sono ma cambierà il modo in cui lui le gestirà imparerà a gestirlo la situazione a non accettarla e vedo anche in una scena dove in alcune discussioni lui si renderà conto che a volte è meglio lasciar perdere perché altrimenti la protezione di e più debole quindi io in questo momento lo vedo molto pulito e come se avesse compreso come comportarsi questa protezione questa polizia sua la polizia che automaticamente ha creato in questo momento vedo una una consapevolezza che lo che lo che lo fa comunque creare una protezione alle interferenze esterne diciamo la polizia che lui si è fatto ha creato con consapevolezza e protezione una conseguenza il frattare sempre timido se salario il metterico vuole dire un messaggio lampo ad alex dare un massaggio l'amporale s'avvicinato quando l'abbiamo chiamato dice che troveremo il modo di ricongiungerci perché saremo più forti anche per tornare da dove siamo venuti manca tanto dice d'alex vuole lasciare un messaggio fratello io vedo la parte subliminale di alex che dalla mano all'altra parte subliminale del fratello e gli dice che ecco che è soddisfatto e contento del fatto il fratello abbia fatto questo lavoro di pulizia contento si danno la mano le mani tutte e due e nel mentre si danno la mano vedo una enorme luce che come se diventano più forte come se sono più potenti così adesso questo va bene abbiamo finito quindi disconnettiti da tutto e tutti tutti Grazie a tutti.